bene carissimi amici ancora ben ritrovati qui sul mio canale youtube arriva il nostro appuntamento mensile consueto con la tabella numeretti e andremo a vedere questa bella convergenza per il mese di agosto che vi andrò a far vedere allora intanto abbiamo vi porto subito la convergenza che è quella di bari venezia con il 5 e milano napoli con il 5 quindi con gli ambisecchi l'ambata l'abbiamo sempre prima e quinta posizione gli ambisecchi sono 5 60 e 5 40 bene questa è la convergenza che vi consiglio di seguire dalla tabella numeretti per il mese di agosto tenteremo le due terzine aggiungendo il 90 attenzione sia su queste ruote sia a tutte le ruote 95 60 95 40 quindi andremo a tentare le due terzine cioè i due ambi 5 65 40 li aggiungiamo il 90 sia sulle ruote sia a tutte quindi bari venezia milano e napoli attenzione a questa convergenza con il 5 perché è veramente interessante quindi avremo bari venezia ambata 5 prima e quinta posizione milano napoli ambata 5 prima e quinta posizione gli ambi 5 65 40 e le due terzine aggiungendo il 90 chi riesce a ruota bene altrimenti due terzine a tutte le ruote 95 60 95 40 per adesso saluto a tutti i mister sbancolotto